La parità di genere nell'uso consapevole del denaro e la violenza economica contro le donne in condizioni di fragilità. Sono stati questi i temi al centro del convegno educazione finanziaria come strumento di sostenibilità economica ed inclusività sociale, organizzato dalla BCC di San Marzano nei saluni della Castello Aragonese di Taranto, in collaborazione con la Fondazione Educazione Finanziaria e Risparmio e il Lions Club Taranto San Giorgio Terraionica, presieduto da Marisa Di Santo. Tanti gli interventi di prestigio, che hanno sottolineato come l'educazione finanziaria, rappresenti uno strumento fondamentale per incentivare l'indipendenza economica femminile, necessaria per garantire una reale parità di genere. Tessiamo un passo in avanti perché una banca del territorio ha proprio questo obiettivo, quello di recepire immediatamente quali sono le esigenze, quali sono le necessità ed essere sul pezzo, essere sul pezzo prima degli altri e con un vantaggio competitivo, quello di non avere un interesse economico specifico a fare questo, ma noi vogliamo fondamentalmente far crescere il territorio, far crescere tutta la società da un punto di vista non solo economico, ma anche sociale, quindi l'educazione finanziaria sicuramente è un must da questo punto di vista. Siamo in un momento storico in cui la formazione è importante tutta, soprattutto considerando anche le dinamiche di cambiamento che sta vivendo il mondo dell'economia, il mondo della società civile in questi ultimi anni e quelle che sono le proiezioni future dei prossimi dieci. I numeri sono l'elemento fondamentale per una crescita di un territorio e di un paese.